I vampiri, creature maledette e splendide, dal sesso incerto, come quello degli angeli, ma decisamente più interessante. Dal racconto del vampiro Louis, Brad Pitt, al giornalista a caccia di sensazioni, emergono sofferenze e desideri indicibili. Dal 1791 ai giorni nostri, il viaggio di Louis si svolge in compagnia del satanico Lestat, Tom Cruise, il vampiro che lo condannò ad un'esistenza nelle tenebre, e della piccola Claudia, Kirsten Dunst, trascinata nello stesso vortice. Il regista Neil Jordan ritrae il dramma dell'immortalità priva di senso ma travolta dalle più forti sensazioni.